E' slittato l'inizio della stagione della Serie D con il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale di Direttanti che ha rinviato le gare del turno preliminare di Coppa Italia per i fatti di Genova. In attesa delle ufficializzazioni delle date dei recuperi, le sei abruzzesi continuano a lavorare pur dovendo fronteggiare le incognite dovute all'incertezza che regna nel sistema calcio. Lo scorso anno, prima di ferragosto, venne definita la composizione dei gironi e stilato il calendario dei nove raggruppamenti, eventi che in questo caso dovrebbero, ma il condizionale è d'obbligo, avvenire in questa settimana, in particolare entro le prossime 48-72 ore, così come usiamo il condizionale sulla data di inizio del campionato, il prossimo 2 settembre. Il tutto mentre la Serie B rischia di andare incontro ad uno sciopero, mentre la Serie C potrebbe iniziare dopo le sentenze del CONI del prossimo 7 settembre. Quando si giocherà, le abruzzesi vorranno ritagliarsi un ruolo da protagonista. Grande entusiasmo a Vasto, stasera appuntamento di prestigio per la squadra che sarà presentata a città e tifosi ai Giardini Davalos, un appuntamento che sarà preceduto dalla premiazione del ProVasto Legends, una sorta di top 11, ovvero i migliori calciatori della storia della Vastese, scelti attraverso il sondaggio lanciato dal sito vasport.it. In Casavezzano, il tecnico Giampaolo sta sfruttando questo periodo iniziale della stagione per preparare la squadra con alcune varianti tattiche. Sul fronte a mercato, il presidente Paris sta completando l'organico, soprattutto in tema di fuoricuota. Ha da poco firmato il centrocampista, all'occorrenza esterno d'attacco classe 2000, Anthony Dosa. Giovedì la squadra sosterrà un amichevole con il Teramo allo Stadio dei Marsi alle ore 20.30. Sarà anche l'occasione della presentazione della squadra, che avverrà un'ora prima del fischio d'inizio. Anche il Francavilla sta rifinendo l'organico con una serie di under. Tesserato il giovane difensore classe 2000 Alessandro Di Renzo, il prossimo passo sarà l'ufficializzazione del difensore centrale classe 98 Maiolo, che è già in prova agli ordini del tecnico Rachini. Francavilla che nell'ultimo test ha realizzato sette reti contro il River. Anche a Pineto sono attesi movimenti nei prossimi giorni. C'è un esterno in uscita e potrebbe arrivare un centravanti. Prima dell'inizio del campionato, il tecnico Daniele Amaolo proverà la squadra in altri due test. A Roseto contro la Rosetana giovedì prossimo e poi giovedì 30 agosto a Montorio contro la locale formazione. San Nicolo Notaresco e Real Giulianova avrebbero dovuto disputare ieri il turno preliminare. La squadra di Cudini ha rimediato in extremis con una amichevole con i marchigiani del Monte Giorgio, battuti 1-0 grazie al gol di Minella. Il Giulianova disputerà un test col Porto d'Ascoli. Dopodomani della Rosa non farà parte il terzino sinistro francese Fischer, che non ha convinto nei giorni di prova. Tesserati il portiere 2000 Shiba e l'attaccante ex L'Aquila Fabrizi, che ha preso il posto lasciato vacante da Vitelli.